Con i fondi del PNRR, ovviamente, sono arrivati, in particolare noi parliamo della provincia di Travani, arriveranno fondi importanti, quindi è anche necessario che i soldi vengano utilizzati in maniera corretta anche con i dipendenti. Certamente, lì abbiamo dei tavoli specifici per la salvaguardia dei finanziamenti. Monitoriamo con la cabina di regia che i tempi siano rispettati e che i finanziamenti vengano spesi per le finalità per i quali sono stati erogati e non distolti. Quindi c'è anche un'attenzione a prevenire appetiti della criminalità anche organizzata e anche dispersioni in tempi. Lì l'attenzione è veramente molto alta, ci sono opere anche importanti e quindi lavoriamo tutti, anche con le forze dell'ordine, in stretta sinergia. C'è anche un protocollo con la Guardia di Finanza specifico e l'attenzione è estremamente alta.